Sono state consegnate le targhe di riconoscimento alle scuole toscane che hanno aderito al progetto della Regione Toscana Senza Zaino, 130 scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, per 11.800 studenti coinvolti nel progetto nato per diffondere un modello didattico basato su innovazione, formazione dei docenti e scuola di comunità, che dal 2002 di strada ne ha fatta molta. Per noi Scuole Senza Zaino è un modello di innovazione didattica e quindi ci puntiamo molto, è addirittura una delle dieci azioni del Presidente della Giunta di inizio legislatura, quindi noi in tutti i modi cerchiamo di favorire l'innovazione e quindi il numero di scuole e di plessi che aderiscono a questo modello. Il progetto Senza Zaino, il cui logo è frutto di un concorso tra le scuole, è partito dall'Istituto Comprensivo di Fauglia e si è progressivamente esteso a tutta la Regione e ha assunto il valore di rete con una delibera regionale del 2012, parole d'ordine, ospitalità, responsabilità e comunità, via le cattedre e lavori di gruppo per gli alunni, meno peso sulle spalle ma non certo meno studio. Senza Zaino per noi è una metafora, quindi è lasciare a casa quello che sta sulle spalle, il pesante che sta sulle spalle dei bambini perché quello non fa cultura e lasciare i materiali a scuola che siano materiali tattili che i bambini costruiscono, che gli insegnanti costruiscono insieme a scuola ma anche ovviamente materiali digitali. Le adesioni da Pisa a Empoli, dalla costa a Prato alla Lucchesia non si fermano e mentre altre dieci scuole hanno chiesto di essere coinvolte, da settembre 2018 inizieranno i corsi di formazione per i docenti di altri istituti di Bagno a Ripoli, Tavernelle e Montevarchi.